Quando succede qualcosa ad un personaggio pubblico, ad un'azienda, a un marchio, ad un politico e si deve lavorare per contenere i danni, si passa per diversi step. Si parte dall'unità di crisi, che poi diventa quella d'emergenza e poi diventa quella di recovery. Delle tantissime cose che bisogna tenere in considerazione, uno degli aspetti fondamentali per scegliere il linguaggio, il media, il contenuto, il copy, ovviamente il discorso che verrà fatto, sei in prima persona, sei davanti ad un giornalista, per veicolare diversamente l'empatia e l'interesse verso qualcun altro che non sia il protagonista della vicenda, è che cosa si è disposti a perdere. Infatti non è così importante comprendere quale sia l'obiettivo di quella comunicazione quanto grazie a quella comunicazione cosa si sia disposti a perdere, poiché nessuna comunicazione sarà efficace al 100%, riuscendo a veicolare ogni tipo di informazione corretta o comunque migliorativa rispetto alla crisi che il personaggio o azienda sta vivendo. La seconda cosa fondamentale, all'interno di un panorama di aspetti molteplici e di tantissimi professionisti che lavorano contemporaneamente, c'è il beta testing. Qualunque agenzia o personaggio che si occupa di un'unità di crisi ha all'interno della propria azienda un team che si occupa della selezione, quando interna alla società oppure attraverso canali di ricerca universitari e accademici, di un team di beta tester, quelle persone che per prime e unicamente, ovviamente completamente eterogenee come gruppo, sia per il genere, sia per l'etnia, sia per l'estrazione sociale e culturale, eccetera, eccetera, comprenderanno, apprezzeranno e vivranno il messaggio che gli viene veicolato in quel momento. Di conseguenza inserire all'interno del panorama dei media delle scuse, un discorso, un comunicato stampa, scegliendone una forma invece che un'altra senza passare da un controllo in un gruppo di beta tester significa dare in pasto all'intero universo contemporaneamente quelle che possono essere delle fallace. Questi due sono gli aspetti secondo me più critici, quindi il primo, quello di comprendere che cosa si sia disposti a perdere e il secondo, quello del controllo, che fanno di un lavoro di unità di crisi un lavoro eccellente, eccezionale per passare alla fase d'emergenza e poi ovviamente a quella di recovery.